Giovanni benforte. C'era una volta un taglialegna che si chiamava Giovanni. Un giorno si ferì una gamba e sulla piaga si posarono le mosche. Quante mosche! Ne uccise 500. Allora si mise al collo un cartello. Giovanni benforte che a 500 diede la morte. Il re lo mandò a chiamare e gli disse va a catturare il gigante. Pastore dammi due ricotte. Ehi gigante guarda la mia forza. Sbriciolo i sassi con una mano. Forte sei forte ma riesci anche a bucare la corteccia di una quercia con un dito. Giovanni accettò entusiasta. Lui conosceva una quercia cava in cui addirittura riuscì ad infilare il braccio. Il gigante rimase sbigottito. Ma una notte il gigante decise di rompere la testa Giovanni. Ma a rompersi fu solo una zucca che Giovanni aveva messo sul suo cuscino. scappando Giovanni disse al pastore. Ehi sventra una delle tue pecore e dia al gigante che mi sono tolto la budella per correre più veloce. Dammi un coltello che faccio anch'io così. E fu così che al corpo del gigante venne dato fuoco nella piazza del paese. Grazie. Grazie. Grazie.